Ma io mi sono candidato, ho scritto mi candido, non contro i vettici del partito. Mi sembrerebbe strano questo, perché il candidato ufficiale del partito democratico è quello che stasera avrei preso più voti, se no è inutile farlo. Per questo io non sono mai stato appresso a queste storie. Renzi si tiene giustamente fuori, perché sa che il suo candidato è il candidato che stasera vince. E poi l'altra cosa singolare è che dei candidati, io sono l'unico che ha votato Renzi, ma non cedo appoggi, ho votato Renzi perché penso che abbia fatto bene a smuovere le acque, ma io mi candido a fare il sindaco.